Benvenuti ragazzi a questa seconda parte del farming delle primogems Preparazione ai nuovi banner che sono in uscita proprio oggi I metodi sono molti, le primogems sono tante e per questo ho deciso di dividere il video in due parti E questa è appunto la seconda parte e quindi l'ultima Voglio che il video sia più corto e più coinciso possibile, quindi iniziamo subito Iniziamo con il primo metodo, un consiglio, andate ad esplorare Dragonspine Dragonspine è un posto piccolo ma veramente ricco di loot e di primogems Infatti a Dragonspine come vedete ci sono molte casse E oltre ad avere tante casse, queste casse sono garantite di avere il massimo possibile di primogems trovabili Appunto nelle zone normali le common danno raramente 2 Invece qua è garantito, stessa cosa per le exquisite, di solito danno 2 Qua daranno sempre 5 e come per le precious che di solito danno 5 Invece qua daranno ben 10 primogems ogni cassa trovata Appunto come avete visto le casse sono veramente tante Quindi consiglio di farci un salto se non l'avete già fatto Passiamo dunque al prossimo metodo Ogni volta che livellate andate subito a vedere se avete dei reward in primogems nell'avventure rank Potrebbe essere che tra un livello e l'altro troviate 100 primogems da Catherine Passiamo al metodo successivo che riguarda queste 3 chiavi Le potete ottenere facendo il first clear dei vari tempi che lasciate in giro per la mappa Queste vi serviranno per aprire i Shrine of Depths che vi daranno 40 primogems Ecco a voi un esempio Controllate di avere queste chiavi e andate in giro per la mappa a cercare queste rovine Passiamo all'ultimo metodo di questa guida Se siete dei nuovi player non potete conoscere la T-Bot Se invece giocate da tempo l'avrete già sbloccata La spiego in poche parole In pratica è un mondo a parte In cui potete costruire il vostro territorio personalizzato Quindi da lì potrete ottenere dei set che vanno a coincidere con i gusti di magari un personaggio Per esempio in questa immagine Diona, Amber e Razor hanno i gusti in comune con questo set Quindi montando questo set una volta parlato con i personaggi otterremo 20 primogems da ogni personaggio Tenete bene a mente che questo vale per ogni personaggio del gioco Quindi 20 20 20 20 iniziano a diventare tante Non parliamo di 400 o 500 primogems Anzi arriviamo a parlare quasi di 1000 primogems Ultima cosa Essendo oggi giorno di patch È uscita la nuova personaggio Shen e Xiao Quindi mi raccomando Andate negli eventi e fate il trial di entrambi Perché sono 20 primogems per ogni personaggio Oltre a questo ricordatevi di prendere le 600 primogems nella mail E mi raccomando La pazienza è tutto in questo gioco Inoltre quando arrivano delle mail Leggete bene cosa c'è scritto al suo interno Perché potrebbero esserci dei metodi per avere delle primogems nascosti Ad esempio un evento che sta andando ora Mentre sto registrando il video È un evento in cui tanti player si devono iscrivere ad un determinato sito E al raggiungimento di top player ricevere un 40 primogems Alla fine il mio più grande consiglio che vi posso dare È non sputate sulle poche primogems 20 primogems lì 40 lì 100 lì Piano piano le farete Ci vuole anche tanta pazienza Ed essendo un gacha Serve la pazienza Ed essendo anche free to play Ce ne serve ancora di più Detto questo non posso far altro che ringraziarvi della visione di questo video Come al solito spero vi sia stato utile E noi ci vediamo al prossimo E noi �centoие